Grazie a te, ho un esercito per riconquistare il castello. Te l'avevo detto che Yuna era in gamba. Sto già preparando la sua ricompensa. I rinforzi dello Shogun saranno presto qui. Ma prima che arrivino, dobbiamo risolvere un problema. Le spie hanno intercettato gli ordini del Khan. Erano per Ryuzo. I suoi mercenari sono pronti a fiancheggiarci. Sai dov'è Ryuzo ora? Vicino, al forte Koyasan. Non serve che lo affronti tu stesso. Era mio amico. Me la vedrò io. Fa quel che devi. Al tuo ritorno l'esercito sarà pronto a marciare. Forse Yuna verrà con me. Si fa fatica a commerciare di questi tempi. Non possiamo portarci tutto. Tu che cosa lasci? Più di quanto immagino. Troveremo lì nuovi attrezzi. Te ne vai. Tuo zio è stato di parola. La nostra nave salpa domattina. Aiutami un'ultima volta. Ryuzo si nasconde a forte Koyasan. Non posso. Ti prego di capire. È tutta una vita che aspetto. Soffro la fame. E rischio la pelle per racimolare qualcosa e ricominciare una vita in Giappone. Non posso mollare ora. Non te lo sto chiedendo. Aiutami con Ryuzo. E poi ci saluteremo. È la tua battaglia, Jenna. Non la mia. Voglio solo poter ricominciare una nuova vita. Non ti fermo allora. Grazie, Yuna. Di tutto. Spero che troverai pace. Anche tu. Signore. Ascolta tua sorella, Taka. Avrà cura di te. Addio, Lor Sakai. Posso farcela da solo. Nelle ombre della notte. Vengo a prenderti, Ryuzo. Escolta tua. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voleva che fossi orgogliosa di lui. Voleva essere come lo spettro. Non dovevi lasciarlo venire! Ho provato a fermarlo. Ma lui voleva rendersi utile. È d'attacco. È scappato! Dovremmo andare. Non lo lascio qui! Voleva! Voleva! L'avete ucciso! Quello era l'ultimo. I cappelli di paglia sono finiti. Ryuzo è solo. È ancora vivo, con il Khan. Qui non ci resta altro da fare. Devo seppellire mio fratello. Ti aiuterò. Non sarebbe dovuto accadere. Mi dispiace. Giorai di dargli una vita dignitosa. E proteggerlo. Non è colpa tua. È mia. No. È del Khan. Di Ryuzo. Di tutti i mongoli su quest'isola. Aiutami a ucciderli. Aiutami a vendicare Taka. Non ho più motivi per... Andar via. Non so dove andare. Cosa fare. Se non restare. E combattere. Dovresti tornare al campo di mio zio e riposare. Ci vediamo lì. È stato forte. Fino alla fine. Lo è sempre stato. Fino alla fine. Urai, siete vivo o siete uno spirito? Vivo. Per ora. E si chiede cosa ci fai qui. Temevo che la mia arte sarebbe andata sprecata. Ma un samurai è vivo. Ho i colori della mezzanotte. Alberi anneriti dal fuoco. Occhi scuri e bramosi. Portatemi materiali giusti. E io vi vestirò, mio signore. Per ora. Per ora. E io vi vestire. Per ora. Per ora. Per ora. Per ora. E io vi vestire. Per ora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Me ne servono di più per la tonalità giusta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stavo aspettando questo momento. Grazie a tutti. Sarebbero ancora vivi se tu fossi arrivato prima. Ora sono qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ucciderai mai più. Devo affrontare l'uomo che mi ha messo contro quest'eroe. Il guardo alla paia di un uomo che potrebbe sapere dove è.